Mario D'Agostino, vice sindaco di Ortucchio, da sempre vicinissimo ai colori rossoneri dell'Ortigia, archiviata la partita con il Monte Reale, sulla vostra strada c'è il Pescina, un'altra candidata al salto di categoria. Che gara sarà? Ma è un derby, sarà sicuramente una partita difficile tra due squadre che secondo me sono attrezzate per fare molto bene. Il Pescina ci ha messo in difficoltà in Coppa Abruzzo, comunque ha veramente una squadra ben attrezzata. È un campionato che se qualcuno all'inizio potesse pensare di essere difficile, oggi il dubbio è certezza. Quindi vinca il migliore e noi speriamo di portare il derby dalla parte nostra. Noi di A Tutto Calcio eravamo presenti a Monte Reale, abbiamo visto una squadra, quella dell'Ortigia, al pari del Monte Reale, ben messa in campo, ordinata e con calciatori che in categoria superiore sicuramente non sfigurerebbe. No, è un campionato, ripeto, molto difficile, molto livellato, la differenza tra arrivare primi e ottavi è veramente sottile. La nostra è una grandissima squadra, ritengo forse la più forte a livello di organico. Permettimi di sottolineare il fatto che la maggioranza, la stragrande maggioranza, sono ragazzi di Ortucchio e questo fa sì che sia un gruppo molto coeso. Anche, diciamo, a livello di rimborsi poter contare su un gruppo di ragazzi del proprio paese è sempre un qualcosa in più. Certamente, questo è il fatto che parecchi ragazzi siano del posto, ci permette di ammortizzare, di non poco rimborsi. In bocca al lupo. Viva il lupo.